Bella raga sono Stephen Basalari, sono a Napoli e ho saputo che stasera Shiva canterà proprio qua quindi ho deciso di fargli una sorpresa. Che sorpresa vuoi fargli Stephen? Nico lo sai io Donato abbiamo aperto la nostra salumeria qua a Napoli con mollica o senza quindi voglio fare un panino per Shiva e consegnaglielo direttamente al live. Ovviamente Andre merita un panino bello particolare. Non sarà un panino classico sarà un panino proprio dedicato al 100% anzi adesso devo fare una chiamata. Sto chiamando il panificio Napoli che è il nostro panificio di fiducia senti cosa gli dico. Tutto bene? Ascoltami ti rubo un minuto ho una richiesta speciale da farti. Mi riesci a fare con massima urgenza un panino con la mollica rossa? Ok allora vengo lì così lo guardiamo insieme. Grande grazie mille gentilissimo ciao ciao ciao. Cioè Nico panino rosso per Shiva adesso devo pensare agli ingredienti. Sono con Salvatore il boss del nostro panificio di fiducia Coppola doppia versione compagnotta e questo invece si chiama? La francesina. Siamo dietro il banco adesso andiamo a preparare il panino per Shiva. Tra l'altro essendo Napoli abbiamo preparato anche il panino azzurro guardate. Bellissimo da oggi disponibile in negozio. Andiamo col taglio di questa pagnotina mettiamo dentro una bella burratina. Eccola qua guardate che bella. Mamma mia esplode questo panino. E un bel prosciutto cotto. Manca qualcosa di rosso. Non è abbastanza rosso? No. Non c'è problema. Vieni qua. Pomodorini secchi che daranno questo tocco di rosso scuro anche in superficie. Andre sto arrivando. Raga sono in taxi come vedete la borsina a molico senza per la consegna a domicilio è pronta. Ho preparato anche altri 10 panini per tutta la sua crew. Manca mezz'ora in live. Speriamo di riuscire a consegnarli. Guarda qua Rico. Qua c'è il panino Santana. Raga ci siamo. Tra poco inizierà il live di Shiva. Speriamo di riuscire a domicilio solo per noi. Solo per noi. Con sei domicilio. Comunico senza. Metà con e metà senza. C'è una cosa in più che devo dire. L'abbiamo fatti fare apposta per voi che ovviamente siete Santana e quindi il panino è La consegna comandata. Dico che ho visto la reazione quando ho tirato fuori il panino rosso sono impazziti quindi meglio di così non poteva andare. Tra l'altro voglio fare i complimenti a Shiva che ha fatto veramente un live straordinario. Ma al number one quando è che viene quindi? Lo dico qua ufficialmente. Shiva sarà ospite al number one. Il... Il...